E' bello a tutti ragazzi che vi faccio in questo nuovo video Aspettate un attimo per la porta Su questo nuovo video comunque mi presento subito Io sono Predator Shark E spero che vi possiate divertire sul mio canale Questo qua è il nostro primo video Arriviamo a 5 like e ne farò altri Se no non continuerò Comunque io avevo già un canale aperto da due settimane Non mi piaceva il nome allora l'ho cambiato Che si chiamava Sully's Cube In quei 15 iscritti o 16 Venite di qua in questo canale E io spero che vi potete iscrivere anche altri Non soltanto quei 15 iscritti Comunque farò video con i Fazza I miei amici I Fazza sono i miei amici Abitiamo nello stesso paese Faremo video insieme Faremo prank, challenge sul calcio Io non sono tagliato per il calcio Ma loro due sì Sono dei veri mostri Comunque i Fazza sono composti da Gabu2 I Fai96 il che saluto Comunque iscrivetevi sui loro canali Vi rilascerò in descrizione Vi sicuro E Cosa vi posso dire In questo canale Faremo video su Minecraft Faremo FIFA Faremo Call of Duty Sì Poi faremo il calcio Anche se se non sono bravo Imparerò Imparerò con voi E prank Sì Faremo scherzi telefonici Andremo in giro dalle ragazze Per il paese Tipo gli diremo Cose assurde Loro dovranno capire così Faremo le challenge Tipo la Emoi challenge La friends challenge La crossbar challenge La più importante E Io vi ho detto quello che sono Adesso vi parlo un po' di me Sono un ragazzo Come si può vedere Di 12 anni Mi chiamo Kevin Abito In un paese Chiamato Solza Lo dovete conoscere Dalle ultime notizie Che ci sono state E Qui abito con i Fazza Cioè Non viviamo nella stessa casa Abitiamo nello stesso paese Io e i miei amici Faremo video con loro Di sicuro Li faremo Sul campo da calcio In palestra In giro per Solza Se no Li faremo Su un campetto Da calcetto Che È molto divertente Giocare su lì Anche se Sia in me Anche se Mi si è rotto Il cellulare E comunque Spero che questo video Vi sia piaciuto Seguitemi su Facebook Kevin Guerriero Io spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate un bel like Noi ci vediamo Nel prossimo video Bella ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti